Bella a tutti ragazzi e benvenuti su Seasal Gaming Qui è Crizzly e finalmente siamo su Call of Duty Ghost Dopo molto tempo, molti anni passati ad aspettare Crizzly che faceva un video Finalmente siamo arrivati su Ghost a fare qualche video Allora, volevo iniziare subito a dirvi che non mi ricordo niente No, volevo dirvi niente, vabbè, che non ho portato video perché come sapete non c'è il cinema Quindi i gameplay non li potevo fare proprio per fare i live, non avevo tanto tempo E vabbè, volevo portarvi fino adesso, ho fatto, mi pare, 9 cam E purtroppo non ne ho registrato neanche una perché non c'è il cinema Il gioco che secondo me questo l'hanno fatto show tanto per farci divertire Perché non è finito come gioco, non è un gioco fatto al 75% questo Non è finito come gioco Infatti gli stanno fanno aggiungere le modalità piano piano Cerca di distruggi, poi aggiungeranno, che ne so, altre modalità che si sono persi per strada Tanto abbassiamo la voce Non si abbassa la voce, si vede su questo cosa? Ah, no, non si vede su... Sulla registrazione Vabbè, intanto ragazzi, mappa stupenda Su questa mappa ci ho fatto la prima game E... niente Mappa stupenda questa Oh, lui c'ha la cappa oro, guardate Il nostro amico Shadow Ah, ragazzi, sto in gruppo Vabbè, sto in gruppo, sono le... 9.57 del mattino Oggi non sono andato da scuola, ecco perché sto facendo i live E... niente, abbiamo pure uso la cappa Silenziatore, facciamo un po' di spawn trap camperati là sopra Fino a zero Un po' ci camperiamo Quando siamo arrivati troppo in serie Sì, andiamo Vediamo quanti... quanti rumeni ci stanno Ah, non c'è stato neanche un rumeno là fuori Stato tanto il capo clan mio Voi dovete sapere, ragazzi, che Il mio capo clan fa parte della razza rumena Non sto sforzando, eh Segnalatevi tutti l'account Si chiama Electrocore Segnalatevi Ha fatto l'axe, tipo il decimo prestigio Poi fa tutto, tipo ha fatto 20 game Tutte boosterate Che schifo Intanto, vabbè, passiamo al gameplay Quello sta là dentro Se ne va, lui scappa Sì, che mi sta sparando Lui non muore, va bene Ah, che cos'è Ma avevamo detto che non ci stavano le guide Ah, no, vabbè, lui fa direttamente questo Ok, andiamo a sinistra Muori, chi cosa? Essere inferiore a me Andiamo dentro Sono in troppi Andiamo via da qua Ah, vedi? Noi stavamo, lasciavamo questo dietro E' un manuale che sono salito Sto perfetto Sto in serie, sto in serie È cam questa È cam in live Sette, dai Otto Andiamo via Sto in serie Sto in serie Nove Sto in serie Vediamo armi 10 E morire Ecco la che arriva O l'ho ucciso Affanculo Un coglione Copriamo questi due spazi Facciamo un attimo così Appena riuscito quello che mi stava venendo ad attaccare Mamma mia Io mi giro a cazzo Lo trovo che mi sta là Cosa mi ha tirato Se vai rega Lui ha cieca per uccidere Guardatelo Spire di gioco pro Pure l'oracle del dio in croce Pure l'oracle del dio in croce Tacci su a 12 No quanto sta a 11 Entra in serie ma muore Roma Senza il gruppo da provare Ho visto uno che saltava o sbaglio L'avevo visto uno che saltava là dietro Mamma mia che pro Roma Lui si ricrea là Si gira e muore E campera Guarda Best camperuga Che pro player Da MLG 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 per lui Per forza MLG Lo vengono a prendere a casa Con lo scuola bus Che forza È da scuola bus Eccoli là Tutti i belli camperati Io lo cito da qua dietro Perché anzi no Facciamo il girito Ok guarda che trucchetto Ria Fammi il girito Gli ho capito Ammo belli dietro E non c'è nel sangue Se sta uno però È andata a campera là dietro Ria Lo stava Lo stava Acidofon alla madre Quindi Ecco La risposta Si mamma Ho perso Cazzo ria Questa qua è la camera Perché se io rimanevo vivo Che sto Cosa sei Che razza sei Super Saiyan Distruttore Tanto al prossimo round Ci mettiamo a camperai Dentro lo strip club Noi Stavo insegnando Faccio la cam in live Cazzo era Era la best cosa Best gameplay Hai rotto il cazzo Mi l'è stata ruba a tutti Oh porco dio Devo entra in serie Cosa fai tu qua Cosa fai Che c'è Che c'hai Che c'era qua Stavi a mirare Dei mirare Mi so qua due cane Il cane che prova a fare qualche scatto Prepara Bolta ancora Bolta Cipollini Cipollini Ti prepara Il cane non ci riesce a fare qualche scatto Cipollini ancora Ti prepara Il cane che provava ma Lo avevano legato Quindi non si poteva muovere Sto registrando Sì ok Non si poteva muovere lui 15-4 Quindi Sto a due di fila ragazzi E' cam L'ultima volta che l'ho detto L'ho fatta Quindi Ve lo dico adesso E' cam Rega ve lo dico In anticipo Questa è cam Chi è questo? Cosa sei? Lui con Ma come fai? Chi è che c'è un rinculo Che mette paura Dai devi rompere il cazzo Devi camperare a centro mappa Dio in croce Guarda ancora là sta Se muori magari Edshot pure Ammazza un caricatore Da Edshot Ammazza un caricatore per città Anche se gli faccio Edshot A due di fila Subito torna X Roma Subito a due di fila L'hanno ucciso a due Ma subito ci è tornato Ma come era dietro? Oh il cane è incazzato Lo hanno slegato il cane Finalmente Può mostrare tutta la sua potenza Quanti camper qua? Nessuno Eccolo là Lui X Roma Lo fila Colpo da lontano Lo distrugge Si prova Adesso tanto rientrerà Dalla Se non rientra Gliariamo la famiglia Eccolo là l'altro Lasciamperuga Sono cascato Perché casco? Poi mi sei di crano davanti Perché? Perché devo Devo fare il coglione? Perché? Perché? Ok Ma troppo ora eh Prima col cichino Ma no è tu scemo Headshot Triniti alleato in arrivo Gli striniti Purtroppo non starà a camera ragazzi Mori ciposa ciposa Cipollini cipollini ancora cipollini cipollini Mira Quanti usciranno da qua? A me adesso esce tipo L'intera famigliola Non c'è l'intera famigliola L'intera famigliola Ancora Molto buona rega Perchè stanno Oh 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 Eh Ho visto una sfera luminosa io Eh 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 Ma che stiamo? Che stiamo su Dragon Ball lo cazzo di sicuro uscirà da qua no si è rigato qua no di sicuro stanno dall'altra parte x roma ancora eccolo la l'ho visto per nessuno adesso facciamo l'ultima stilla attraversamento inopportunio la chiamerò così questa tattica attraversamento inopportunio guarda che se lui non sa salire le scale ragazzi lui non sa salire le scale lui non sa salire le scale purtroppo ragazzi è lui ha una grave malattia chiamata dito malato dito malato sta ancora là stando se sta ancora là distruggo la fama ciao frate tutto a posto tranquillo tranquillo sempre così sempre così frate basta che giochi sempre così e io sto contento siamo contenti tutti partita ma perde quindi puoi mettere un percazzo sta là ma esce sta là non sei sicuro non esce vabbè è uguale è uguale è uguale catturate per dio non voglio vincere tenista a sparare un quarto d'ora prima mi sa il meglio se mori perché sennò si sa quante botte le do eh vabbè ma se la gente te la trovi mirata che cazzo c'hai dei malattie mirato e vai lui sa già che esco sa già che sa tutto l'uomo che sa l'uomo che sa uscidiamo un po' quelli che vengono nel nostro spawn è un pericoglione eccola ci mettiamo qua sopra come loro a difendere l'ho visto l'ho visto vabbè un po' scappata scappata eccolo l'analtro sono a destra eccolo l'analtro perché fanno le finte escono dallo spawn per ritornarci è buono questo posto la partita campierata ecco l'unica scoperto ha scoperto ma a Roma non lo uccide perché lui dito malato scoperto non si vuole uccidere se niente diversa potenza no no eccolo saudi spara prima al cane poi spara all'uomo senza pene e lo uccide io stavo davanti a me vabbè ragazzi è stato un piacere tornerò spero presto a fare qualche altro live per sdrogheggiare e niente vabbè se riesco a portarvi la cam se mettono nel cinema e niente vabbè ci sentiamo al prossimo video un saluto da grizzly anzi no da Roma perché mi chiamo Roma e niente un saluto da Roma i bella grazie 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 grazie